Amici Trevi Meteo, bentornato a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì a livello europeo. Volevo segnalarvi che queste piogge sulla penisola balcanica sono poi dovute alla perturbazione che è passata anche da noi. E in effetti per l'Italia ci attegniamo un miglioramento del tempo, anche se solo in alcune zone, in particolare al nord e sul medio alto tirreno, ma sul medio adriatico e al sud atmosfera molto instabile, tra l'altro nelle regioni meridionali anche temperature in diminuzione. Entriamo più nel dettaglio cominciando dal nord Italia, dove dicevamo il tempo migliora, anche se all'estremo nord-est stanno presenti ancora dei piovaschi, così come in Romagna, dalle altre parti ampie schiarite e temperature in rialzo. Nell'Italia centrale migliora sul versante tirrenico, con il ritorno di ampie zone di sereno, invece atmosfera ancora molto instabile sul versante adriatico e con temperature lì contenute. Infine al sud, tempo molto variabile, alternanza di nuvole schiarite, ma come vedete anche con alta probabilità di pioggia rovesci e anche qualche temporale. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com